Ciao a tutti, in questo video andiamo a vedere come sia possibile collegare una skill Alexa ai servizi del nostro IBM AI. In particolare, questa skill che abbiamo realizzato permette ai venditori di accedere velocemente alle informazioni riguardo ai loro clienti. I flussi principali permettono di richiedere i dati anagrafici, ad esempio l'indirizzo, piuttosto che dei dati statistici sul livello di affidabilità di un cliente che può ritornare dei dati sia in formato vocale sia, se il nostro dispositivo lo permette, anche su schermo. Molto importante per questa tipologia di skill è la gestione dell'autenticazione, e quindi ogni utente dovrà autenticarsi per utilizzare la skill e potrà accedere solamente ai dati che lo riguardano, quindi in questo caso dei propri clienti. Per definire una skill di questo tipo ci affidiamo al flusso standard per l'implementazione delle skill di Alexa, quindi si utilizza come punto di partenza il developer console, l'Alexa developer console, in cui posso creare la mia skill e definire l'interaction model di base, quindi gli intent, gli slot legati agli intent e anche le utterance che sono le frasi di esempio che possono scatenare le azioni, gli intent. Una parte molto importante per realizzare l'autenticazione è l'utilizzo dell'account linking, questo ci permetterà di far gestire ad Alexa l'autenticazione dell'utente che non potrà ad accedere ai servizi della skill se non avrà effettuato l'autenticazione. L'account linking può essere implementato, deve essere implementato rispettando lo standard out2 e nel nostro caso l'abbiamo implementato tramite un'applicazione node sul nostro IBM AI, quindi in questa pagina posso configurare i parametri di connessione al nostro servizio di autenticazione su out2 che verrà interrogato direttamente dal dispositivo Alexa quando un utente non ancora autenticato proverà ad accedere alla skill oppure anche quando la installa. Un'altra cosa molto interessante per questa tipologia di skill è l'utilizzo di Alexa for Business. Alexa for Business che è uno dei servizi di AWS ci permette di poter gestire un certo numero di skill con utilizzo privato, quindi senza la necessità di pubblicarla all'interno dello store pubblico di Alexa quando sarò nella fase di pubblicazione potrò fare una pubblicazione privata quindi più veloce con meno controlli e soprattutto che non sia visibile a tutti gli utenti ma solamente a quelli gestiti dalla mia organizzazione. Per la parte di back-end oltre chiaramente ai servizi sul nostro IBM AI andiamo comunque a definire un back-end diciamo un middleware su Lambda che risponde direttamente all'interrogazione della skill andrà poi a fare le chiamate su IBM AI e si occuperà poi di generare la risposta da rimandare al dispositivo Alexa. Qui vediamo come è strutturato un progetto quindi questa è la parte di interaction model che viene scaricata dal portale di developer console e l'applicazione node che andiamo a pubblicare sul servizio Lambda. Come possiamo vedere questi sono i tre servizi che abbiamo implementato per le richieste che l'utente può fare per richiedere i dati dei clienti ad esempio questo è quella che gestisce i dati dell'indirizzo e saranno comunque tutte strutturate in questo modo come potete vedere una volta ricevuta la richiesta dal dispositivo Alexa questa applicazione diciamo middleware non fa altro che andare a interrogare il servizio su IBM AI quindi sempre tramite un'integrazione HTTP saranno delle chiamate dei servizi REST che ritornano dati in formato JSON che poi possiamo utilizzare per generare la risposta adeguata. Ad esempio nell'intent dei dati statistici oltre a generare una risposta vocale andiamo a generare anche una risposta visuale tramite l'Alexa Presentation Language per cui abbiamo un template che mostrerà queste informazioni sullo schermo del dispositivo. Andiamo a vedere quindi lato IBM AI come sono implementati questi servizi che noi andiamo ad utilizzare direttamente dalla skill Alexa. Anche per implementare i servizi web su IBM AI abbiamo utilizzato Node.js. Questo grazie al Portable Application Solution Environment di IBM che mette a disposizione questa tecnologia sui server. Così facendo abbiamo implementato la nostra API come un normale progetto Node.js. In particolare abbiamo utilizzato Express come framework HTTP e Authorize insieme a Passport per implementare il server OAuth 2 come richiesto dall'autenticazione di Alexa per utilizzare l'account linking. IBM mette a disposizione ovviamente i driver per connettersi al database DB2 che possiamo utilizzare all'interno del progetto Node.js utilizzando il modulo DB Connector. Abbiamo implementato quindi tutte le API necessarie a recuperare i dati dei clienti quindi i dati anagrafici e le loro statistiche dal database DB2. Ogni API è in grado di validare la richiesta quindi di validare il token ricevuto tramite l'autenticazione e ritornare una risposta in formato JSON. Questi API sono accessibili da web quindi tramite richieste HTTP ed è importante che vengano esposte utilizzando il protocollo HTTPS con certificato in modo che l'integrazione con l'account linking di Alexa sia valida. Alexa Developer Console ci mette a disposizione anche un ambiente per testare la nostra skill. Come prima cosa vediamo dalla nostra applicazione collegata alla skill quindi l'app di Alexa come funziona l'autenticazione. Quando attivo la skill, Sales Manager in questo caso è la skill che stiamo sviluppando Alexa si collega direttamente al nostro servizio di autenticazione su IBMI e in questo caso poiché ero già autenticato sul portale di IBMI mi ha dato conferma dell'autenticazione quindi la skill da questo momento sarà autenticata. Se non fossi stato già autenticato nel sistema di SSO mi avrebbe mostrato una pagina di login dove poter mettere username e password. Una volta autenticato dovrei essere in grado di interrogarle. Alexa, Open Sales Manager Hi, Welcome to Sales Manager This skill will help you check some information regarding your clients. Do you want to check a client address, yearly income or trustability level? Tell me the address of Jenny Bell. Here it is, 12, 29th Glader Street, Shortage, London E16HR, United Kingdom May I help you with something else? Do you want to know Jenny Bell, yearly income or trustability level? Tell me the trustability level, please. Here are sales insights of Jenny Bell. Total orders, $1,058,302.59 To be billed, $245,967.25 Insurance credit, $12,000.00 Commercial credit, $0.00 Total risk, $2,481,347.85 Overrun, $1,281,347.85 Better notifications, $4,美元, $3,429.! This is $2,509,34es! Pre- Grazie a tutti